Buongiorno, oggi è martedì 13 febbraio, ora segna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Sarà una giornata all'insegna della variabilità, maggiore presenza del sole rispetto a ieri, flessione dei valori minimi e dei valori massimi. Una buona notizia che arriva da Bressanone, la donna di 76 anni scomparsa nella tarda serata di ieri, è stata ritrovata sana e salva nel cuore della notte, sempre nella città Vescovile. In regia abbiamo Massimo Moro col suo aiuto, andiamo a vedere cosa accade sui quotidiani in lingua italiana che troviamo oggi ne dico a livello locale, il quotidiano Alto Adige vaccini, schiaffo al ministro, l'assessore Stoker dice qui niente multe né esclusioni da scuola e poi una iniziativa più che lodevole con forbice e spazzola per i bimbi delle cure palliative, le allieve parrucchiere della CNA, protagoniste di un ottimo progetto. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, anziani, emergenza sociale, il sindaco dice incentivi per gli alloggi in co-housing, gli over 65 sono quasi 10 mila, il piano comunale comprende anche la domotica. La cronaca cura del vicino Trentino per la provincia di Trento con il quotidiano proprio Trentino, site, schedati 300, lavoratori, pagelle su velocità, competenza, flessibilità ma c'è la fuga dei dati e poi un altro morto sulla statale del Val Sugana, tragedia sulla retta di Ospedaletto. La cronaca cura dell'Adige, ancora una volta il tema di quello che accade sulla Panarotta dopo l'intervento della procura, le denunce furono ignorate, parla l'ex dirigente tecnico, tante lacune in termini di sicurezza. Torniamo in provincia di Bolzano con il quotidiano linguatrisco a Dolomita, nel bilancio dell'edilizia sociale per conto dell'Ipes, i numeri che riguardano anche gli inquilini non comunitari che sono irrisori, questi numeri e poi le regole di buona condotta per coloro che posseggono un cane. La cronaca linguatrisca ancora con il quotidiano Tagess, Zeitung in una parrocchia della Val Pusteria, non mancano le polemiche dopo una festa che si è celebrata all'interno di questa proprietà, botta risposta tra i residenti e il parroco. Andiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera, Movimento 5 Stelle, un buco da 1,4 milioni, tutto ruota intorno ai rimborsi mancati, sono dieci casi, la difesa parla che la difesa dice i ladri, sono altrove, ovviamente attacco da parte degli avversari politici in primis il Partito Democratico. Le buone notizie, l'inserto del Corriere della Sera, state lontani dalla droga, aiutiamo i nostri figli a risalire l'abisso, parlano alcuni dei protagonisti di coloro, dei progetti a firma di coloro che aiutano i ragazzi a uscire dalle dipendenze. Il sole 24 ore, grandi opere e infrastrutture, Trump mobilita ben 1.500 miliardi di dollari, il Presidente svela l'atteso piano per rinnovare strade, aeroporti e vie d'acqua. In chiusura, andiamo a vedere con l'aiuto della regia gli appuntamenti da non perdere, il 14, cioè domani, menù di San Valentino alla birra Forst di Lagundo, il 17 e il 18 di febbraio la gran fondo della Val Casies, dal 17 al 20 appuntamento a Rimini con una fiera dedicata alla birra, ma non solo, identico tema per la fiera che si terrà nella capitale, cioè a Roma, dal 23 al 25 di febbraio. È veramente tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33.